la hyundai kona è il modello più venduto del marchio coreano ed ha avuto grande successo sin dal lancio del 2017 lo scorso anno è stata presentata la seconda generazione rinnovata nel design nella tecnologia e nelle motorizzazioni compresa quella 100 per cento elettrica protagonista di questo episodio andiamo a scoprire com'è e come va sono un po cambiate le dimensioni del sub asiatico che ha guadagnato 14 centinaio metri di lunghezza e 6 nel passo nel dettaglio la kona ev è lunga 4,36 metri e larga 1,83 metri ed è alta 1,58 metri con un passo di 2,66 metri per garantire una maggiore abitabilità ai cinque passeggeri per cui è omologata il look è completamente rivoluzionato con una presenza più importante e con tantissime novità estetiche per darle un aspetto più elegante e sofisticato ci sono rimandi alla prima generazione ma anche richiami alle altre elettriche della casa come la ionic 5 e 6 le differenze si notano immediatamente nel frontale dove spiccano la griglia chiusa tipica dei modelli elettrici di nuovi led a forma di pixel con la sottile striscia led che corre da un lato all'altro lateralmente spiccano i cerchi in lega fino a 19 pollici come quelli del nostro allestimento x class dal design ispirato sempre ai pixel ed i vetri posteriori oscurati mentre nel retro della vettura troviamo il paraurti aerodinamico e le luci posteriori a led è presente anche il tetto panoramico apribile grazie al premium pack con cui è equipaggiata la nostra auto. Anche l'abitacolo ha ricevuto degli aggiornamenti di rilievo sia per i materiali utilizzati che per la tecnologia con in primo piano il doppio schermo digitale da 12,3 pollici per il quadro strumenti e il sistema di infotainment. Entrambi i sistemi sono intuitivi e facili da utilizzare con una risposta immediata alle nostre richieste. Sono presenti anche alcuni tasti fisici per raggiungere più comodamente alcune funzioni come alcuni menu, la climatizzazione e le modalità di guida. Sono ovviamente disponibili Apple CarPlay ed Android Auto anche in modalità wireless e i sistemi possono essere aggiornati over the air. Il nostro allestimento top di gamma aggiunge anche le DAP display da 12 pollici. La sostenibilità non è data solamente dalla vettura a zero emissioni ma anche da interni realizzati in parte con materiali da riciclo come gli elementi in plastica riciclabili. L'ambiente è elegante pur mostrando ancora qualche plastica più dura di troppo soprattutto nella parte superiore della plancia mentre sono presenti una buona dote di divani portoggetti, le prese USB-C per la ricarica, due anteriori e due posteriori ed anche la piasta wireless. L'impianto Bose garantisce una qualità di sound elevata. Com'è l'abitabilità? L'abitabilità posteriore è uno dei punti di forza della Hyundai Icona elettrica con ampio spazio per le ginocchia e per la testa per i due passeggeri laterali. Anche quello centrale è abbastanza comodo visto il pavimento piatto. C'è solamente il mobiletto centrale un po' più ingombrante con le prese per recondizionata, due prese USB-C e anche una presa da 220 volt. Com'è il bagagliaio? La seconda generazione della Hyundai Icona elettrica ha aumentato la capienza del bagagliaio. Ora la capacità va infatti da 466 a 1300 litri abbattendo i sedili posteriori. Una buona capienza considerando il segmento della vettura con una bocca ampia e nessuno scalino, quindi comodo per caricare e scaricare i bagagli con la presenza di ganci. Inoltre sotto il cofano anteriore c'è un ulteriore vano da 27 litri. Ora ci mettiamo al volante della nuova Kona elettrica nella versione top di gamma e con la batteria da 65,4 kWh. Questo modello è spinto dal motore a zero emissione da 217 CV e 255 Nm di coppia massima, subito disponibile come classicamente avviene nelle auto elettriche. Questo permette alla vettura di essere brillante e pronta immediatamente nella risposta dell'acceleratore, già nella modalità normal, ma anche la più parsimoniosa Eco che permette di risparmiare la carica della batteria non è ferma. Per divertirsi un po' di più invece si può usare la Sport con una risposta ancora più pronta, forse anche eccessiva a dire la verità, ed uno sterzo un po' più rigido. Tuttavia è il comfort in primo piano in questa vettura. Rispetto alla prima generazione infatti la Kona elettrica appare meno indirizzata verso la guida più sportiva, con il rolio a farci un po' di compagnia se si decide di alzare l'andatura nei tratti misti. Invece la comoda posizione di guida, le sospensioni che assorbono bene le imperfezioni del terreno e una discreta silenziosità rendono molto piacevole la vita nell'abitacolo. Il tutto unito ad una fluidità di guida davvero di alto livello con un'accelerazione progressiva ed una frenata decisa e modulabile. E poi è presente la frenata rigenerativa che può essere gestita su quattro livelli tramite i paddle al volante, passando da 0 a 3 per arrivare all'ultimo livello denominato high pedal. Tramite quest'ultimo si va già solo esclusivamente utilizzando il pedale dell'acceleratore, visto che rilasciandolo l'auto arriva fino all'arresto completo. Una funzionalità comoda quando sei nel traffico cittadino, mentre in extraurbano il livello 2 c'è parso il mix più adatto tra comfort e rigenerazione. Tuttavia è una funzionalità legata al proprio stile di guida. Abbiamo prima parlato di tecnologia che non è però solo intrattenimento. C'è tanta sicurezza in primo piano con un pacchetto di ADAS completo di serie col sistema Hyundai Smart Sense, dalla frenata automaticamente dell'agenza al mantenimento di corsia, passando per il riconoscimento dei segnali stradali e al visuale dell'angolo cieco con il comodo blind spot view monitor per arrivare al cruise control adattivo. Per favorire le manovre, poi ci sono la retrocamera a 360 gradi e i sensori di parcheggio. Inoltre per riuscire dai parcheggi è possibile muoversi avanti e indietro con i comandi a distanza tramite il telecomando. Un elemento chiave delle vetture elettriche è ovviamente l'autonomia. La casa coreana ha dichiarato una percorrenza di 454 chilometri nel ciclo combinato VLTP per questa versione, con batteria da 65,4 kWh e di cerchi da 19 pollici. Noi siamo riusciti a percorrere circa 350 chilometri con una sola ricarica, su un percorso misto tra città, stalo dextraurbane e tangenziale, tenendo sempre acceso il riscaldamento viste le rigide temperature invernali. Per quanto riguarda i consumi, il computer di bordo ci ha segnalato un consumo medio di 20,9 kWh ogni 100 km. Come si ricarica? La Hyundai Icona elettrica si può caricare fino a 11 kW in corrente alternata, completando una ricarica completa in 6 ore e 25 minuti. In corrente continua invece riceve fino a 100 kW tramite i quali è possibile recuperare l'autonomia della vettura in 41 minuti. Quanto costa? La Hyundai Icona elettrica ha un listino da 42.000 euro per la versione con batteria da 48,8 kWh, mentre la Ron Grange con allestimento X-Class, su quella approvata da noi, ha un prezzo di partenza di 49.900 euro. Il SUV del marchio coreano è disponibile anche con il motore 1000 e benzina da 120 CV, anche in versione mild hybrid 48V ed il 1600 full hybrid da 141 CV. Nel complesso la Hyundai Icona elettrica ci è piaciuta per la fluidità di guida, per uno stile moderno e per tanta tecnologia. Viceversa c'è ancora qualche plastica più dura di troppo e si sente un po' più di rollio quando si adotta una guida più sportiva. E con questo è tutto, appuntamento al prossimo video!